I carabinieri della Compagnia di Ciro Marina, unitamente al personale specializzato del nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza, hanno effettuato una serie di controlli presso gli esercizi di ristorazione del territorio a tutela e salvaguardia dei consumatori. Presso un noto locale della Modida Ciro Tana, i militari hanno riscontrato la presenza di circa 10 kg di carne di vario genere assolutamente priva della prevista etichettatura e qualsivogli elemento informativo sulla relativa rintracciabilità, nello specifico tagli di hamburger e salsicce esposte nel bancone del locale, peraltro non conservati in maniera idonea in accordo alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria. A seguito di un controllo più approfondito, i militari hanno riscontrato anche l'assenza della necessaria documentazione sanitaria che potesse attestare la provenienza dei prodotti alimentari in vendita ed il rispetto delle norme relative al loro trasporto. Il locale era già stato oggetto di sospensione temporanea della relativa licenza emesso dal questore della provincia di Crotone su proposta della Compagnia Carabinieri di Ciro Marina a seguito di alcuni gravi episodi che ne avevano compromesso la sicurezza dei cittadini. I controlli in argomento che vengono costantemente svolti dall'arma dei Carabinieri di Ciro Marina nel territorio di competenza rientrano nell'ambito di una mirata e diffusa attività preventiva che il Comando Provinciale di Crotone coordina al fine di contribuire in modo adeguato alla tutela dei consumatori e della salute pubblica.